Musica Volevo chiedere quale è stato il vostro percorso formativo, cosa vi ha portato alla scelta di diventare attori e alla fine come vi siete formati. Come ti chiami tu? Come abbiamo scelto di diventare attori? Sì, ma poi anche il percorso di formati di voi. Beh, veniamo da un inizio formativo diverso, nel senso che poi so che è evidente la cosa, però Michele è più vecchio di me, per cui ha cominciato la sua formazione prima. Mi ha iniziato. Ah, sì, con Grotowski. No, ha cominciato un po' prima. Ci siamo incontrati lì e oltre ad aver, cioè nel 2007, questo stage di cui parlava Michele, e oltre ad aver cominciato a lavorare insieme abbiamo cominciato anche la nostra formazione insieme, perché credevamo e crediamo ancora che per lavorare insieme, per fare teatro insieme bisogna anche parlare un linguaggio comune. E quindi abbiamo cominciato a fare vari stage. Siamo stati, che ne so, in Francia per più di un mese a fare un altro laboratorio di commedia dell'arte. Siamo tornati poi in Francia a fare un laboratorio sull'uso del corpo e sul mimo. Abbiamo fatto un altro stage di clownerie. Insomma, abbiamo cercato anche che il nostro percorso formativo andasse un po' di pari passo al percorso di lavoro, per poter crescere insieme, per poter diventare appunto una compagnia che parlasse un linguaggio. Poi, sulla scelta di diventare attori, è un'altra storia già più complicata da spiegare. Non te lo so dire. Quando scegli di diventare. Non so neanche se lo scegli. Succede. Almeno per me è successo. Poi non so fare, tipo quel tavolino lì non lo so fare. Quindi lo dico. E come magari il teatro lo so fare meglio di quel tavolino? Intanto faccio teatro. No, non stesso. Così è riduttivo. Però non c'è un giorno in cui dici da oggi comincio a fare l'attore. Ecco. È una ricerca. E finché ti riprovi. Sì. Grazie. Grazie a tutti.